... Venerdì 6 marzo, buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta alle 7 per Occhio e Giornali, la rassegna stampa di Fano TV. Allora, partiamo subito dal santo di oggi. La Chiesa ricorda la Beata Rosa da Viterbo, così come San Giuliano a Toledo in Spagna. Il sole è sorto alle 6.35 e tramonterà alle 18.04. Tempo previsto per la giornata di oggi, secondo il bollettino della Protezione Civile delle Marche. In mattinata avremo rovesci sparsi nelle zone dell'Appennino e sul settore settentrionale, mentre saranno isolate queste piogge nella zona collinare e costiera, centro però meridionale. Pomeriggio invece sarà senza precipitazioni. Per quanto riguarda la giornata di domani, avremo anche la neve sui monti del sud della nostra regione. Sarà neve sopra i mille metri, soprattutto dal primo pomeriggio, con rovesci sparsi, ma anche sul Nerone, sul Catria, anche se lì avremo pioggia mista a neve. Per il resto invece si salva, tra virgolette, solo la provincia pesarese sulla costa, perché per il resto c'è pioggia un po' in tutta la regione. Anche i venti forti domani lungo la costa. Domenica invece migliora il tempo, con cielo sereno poco nuvoloso, soltanto nella mattinata, poi prevalenza di sereno per il resto della giornata di domenica. Durante la notte e al primo mattino avremo invece possibilità di brevi isolati rovesci nel settore centro-meridionale. Per quanto riguarda le temperature, intanto aveva condizioni stabili la settimana prossima del tempo, ma dicevo guardate le temperature previste per oggi, balza all'occhio, soprattutto i 20 gradi, 19 gradi a Scoli-Piceno, mentre per esempio così come a Fermo, mentre sul nord della regione, al nord della regione Fano e Pesaro si attestano intorno ai 12 gradi. Le notizie che come sempre anche oggi sono prevalentemente, riguardano prevalentemente l'emergenza sanitaria in corso, il Covid-19, il coronavirus. Sono tante le notizie sui quotidiani, andiamo subito a leggerle e cominciamo dal resto del Carlino. Disastro sicurezza, questo è il titolo della fotonotizia a centro pagina dell'edizione pesarese. Ospedali sindacati all'attacco, ecco che cosa non ha funzionato. medici contagiati, ce n'è uno grave, sono tre i casi, preoccupa l'ex primario Ugolini, 70 anni, che adesso è in rianimazione, non aveva malattie pregresse. A Pesaro calcio in lutto è morto Ghiandoni per oltre 70 anni, super tifoso della Vis, per la cronaca, l'inquinamento, scaricava colla nel fiume Foglia, un'azienda e il suo titolare è finito nei guai. Sempre per quanto riguarda il coronavirus, la bimba di Vallefoglia, positiva, la madre dice sta bene, però pregate per lei ed evitate di fare chiacchiere inutili. Mentre mi soffermerei un attimo su questo commento fatto e scritto in prima pagina sul resto del Carlino. L'altro Ceriscioli titola La ragione contro gli slogan. Gli slogan sono quelli di Matteo Ricci, che a un certo punto si è uscito anche con queste spillette no panico, la ragione invece è quella di Ceriscioli, che invece ha dimostrato di essere come si dice sul pezzo e di tenere la barra dritta, quindi di essere determinato nonostante tutto, verrebbe da dire, nonostante il Premier Conte che gli ha stoppato, ricorderete, la conferenza stampa, la prima ordinanza, nonostante tutto quello che poi gli è successo dopo, anche il ricorso Altar per esempio. Ma sentiamo, vediamo che cosa scrive in questo commento il Carlino. Luca Ceriscioli ha vinto anche se non c'è niente da festeggiare, ha vinto con determinazione ferrea nei momenti in cui tutti ai più alti livelli erano contro di lui e ha incassato la vittoria con classe quando è stato evidente che erano altri ad avere torto, da Conte al Ministro Boccia fino a Ricci. Aveva ragione lui a voler blindare le marche e soprattutto a chiudere le scuole e ha avuto ragione quando non si è piegato di fronte a niente, nemmeno davanti al ricorso Altar che visto con gli occhi di oggi è una follia. Adesso la sua popolarità nelle marche è schizzata a livelli inimmaginabili dieci giorni fa, anche perché la sua azione in tema di coronavirus è stata accompagnata e rafforzata dall'impatto mediatico. in una fase in cui il consenso è frutto più della narrazione dei fatti che dei fatti stessi, oggi Ceriscioli vive una congiuntura rara in politica in cui fatti e parole procedono parallelamente, gli uni rafforzano le altre e viceversa. Matteo Ricci invece ha imboccato la strada sbagliata. Sì, certo dirlo col senno di poi è facile ma a indurre il sindaco in errore, Ricci, è stata proprio la frenesia dei tempi imposti dalla sua bulimia comunicativa che stavolta è stata una trappola. Ora ha cambiato toni e ha fatto sparire gli adesivi basta panico. Non perché sia giusto alimentare il panico, anzi, ma serve fermezza, una caratteristica che male si sposa con gli slogan ad effetto. Dunque Ceriscioli fermo nelle sue decisioni, quell'altro invece, ovvero Ricci, a lanciare slogan con il solito effetto e con questa bulimia comunicativa che spesso però fa danni. Ma andiamo avanti nel commento. Dicevamo delle scuole e qui c'è poco da discuterle. Chiuderle è stata la scelta migliore. Poi ci sono le categorie produttive, c'è il turismo, c'è tutto un mondo piegato dal coronavirus e dalle misure sia governative che regionali. È comprensibile che i rappresentanti di queste realtà esprimano preoccupazione e rabbia, ma oggi limitare il contagio è la priorità. Non solo perché la tutela della salute viene prima di tutto, ma perché la diffusione incontrollata del virus rischierebbe di avere conseguenze ben più gravi di quelle che oggi hanno le restrizioni con cui si cerca di contenerlo. Le scelte azzeccate di questi giorni hanno però messo il governatore di fronte agli errori del passato. Se Ceriscioli si fosse trasformato prima nel CE, come è stato battezzato sul web dopo lo scontro con il governo, se avesse tirato fuori questo suo lato battagliero ai tempi del terremoto, se avesse saputo gestire e raccontare meglio la rivoluzione sanitaria, nessun virus si sarebbe insinuato nel dibattito sulla sua ricandidatura, scrive Roberto Fiaccarini in questo commento che abbiamo letto. Poi c'è l'intervista al ministro Boccia che Carlino ha fatto questa mattina, il ministro che dice che Ceriscioli ha sbagliato tempi e modi, ma superiamo la polemica. In effetti su questo non ha tutti i torti, purtroppo lì ha avuto un po' sfortuna, Ceriscioli ha sbagliato alcuni tempi e anche politiche a volte servono anche quelli giusti. Riva Cold invece, il tecnico, un tecnico ricoverato presente a sintomi da virus, altri 50 dipendenti della Team System si sono sospesi e si sono messi in quarantena a casa, l'ABS si sta invitando il personale a smaltire le ferie. Questa invece è la prima pagina del Corriere Adriatico, il ministero dice sì all'ospedale unico per fronteggiare il coronavirus e tutti questi contagi, il governo dà il via libera alla scelta di Ceriscioli di unire i malati in una sola struttura. Il governatore scrive a Conte, ricordi che c'è anche il sisma qui nelle Marche, servono misure straordinarie, lo dico, da tre anni. Contagi finiscono ricoverati 6 su 10, questa è la fotonotizia del Corriere di questa mattina e poi Marche Nord apre il secondo reparto di malattie infettive. Mentre sta bene, sta meglio la bimba di Vallefoglia, 40 famiglie tirano un sospiro di sollievo e poi il Tribunale, il turno al processo arriva tramite il cellulare. Poi le pagine interne, questa è la pagina del Corriere, il ministero conferma il polo per contagiati, così come aveva anticipato ieri il giornale delle Marche che pubblica giustamente anche uno screenshot della pagina di ieri dove appunto titolava ospedale unico per i contagiati. Oggi c'è questa conferma, ci stiamo pensando, crescita dei pazienti in terapia intensiva, una task force sanitaria sotto pressione, dunque Ceriscioli dice da torrette alle strutture riconvertite, ci faremo comunque trovare pronti. Secondo le previsioni del Gores a questi ritmi di sviluppo del virus sarà possibile garantire ulteriore assistenza ai malati più gravi per un altro paio di giorni. Dopodiché bisognerà pensare a interi poli dedicati. Ieri il Gores si è strutturato in maniera più analitica. Ora di fronte a questi scenari si capisce bene, e lo capiscono credo ormai tutti quanti, lo capiamo ormai tutti quanti, il perché di tutta questa urgenza, emergenza nel contenere il virus. Quando in tanti invece guardavano e puntavano il discorso su un altro aspetto. è poco più di un'influenza. In realtà sarà anche poco più di un'influenza, ma questi sono i risultati. Stiamo mettendo sotto stress in maniera incredibile tutto il sistema sanitario. Quindi ecco perché andava e va soprattutto ancora contenuto questo virus, proprio per evitare di mandare all'aria tutto il sistema sanitario. Anche perché poi non c'è solo il coronavirus, la gente si ammala anche di qualcos'altro e di conseguenza poi rischieremo di davvero fare un disastro. Al vaglio ci sono questi ex ospedali che ora sono state riconvertite in case della salute. A questa mattina alle 8 Ceriscioli sarà all'ospedale di Pesero a Marche Nord per un sopralluogo. Marche Nord tra l'altro è il cuore dell'emergenza marchigiana perché ci sono 12 pazienti in terapia intensiva, Trafano e Pesero, altri 15 in semi-intensiva. Poi insomma c'è bisogno di macchinari, c'è bisogno di stanze. Insomma non è una situazione semplice e tutti stanno lavorando sotto stress, ma stanno facendo un lavoro straordinario. Intanto il governatore Ceriscioli ha scritto una lettera al Premier Conte, si ricordi del sisma, servono misure straordinarie, c'è questo appello a Palazzo Chigi e poi invece il titolone qua sempre sul Corriere di questa mattina, i casi positivi sono oltre quota 100, 6 malati su 10 sono in ospedale, quota 100 nella provincia di Pesero Urbino perché abbiamo visto che i positivi sono ormai di più. 6 malati su 10 dicevo finiscono in ospedale, accertati 124 contagi, ecco tutta la regione, 76 ricoverati, oltre 700 invece sono le persone finite in isolamento. I pazienti nei reparti di terapia intensiva sono saliti da 14 a 19, in quarantena anche 116 medici ed infermieri dopo contatti a rischio. Su questo dobbiamo dire c'è molta polemica chiaramente perché pensare che 116 medici ed infermieri sono ora fuori gioco nel senso che non possono operare, non possono intervenire, sono tanti 116 tra medici ed infermieri, ma c'è anche da dire che se si hanno preso il coronavirus vuol dire che erano in qualche modo, sono stati presi alla sprovvista, pur sapendo che c'era il coronavirus in arrivo. Troppe falle infatti, vedete l'altro titolo, nella sicurezza, ora i sindacati vanno all'attacco. Le falle sono nella sicurezza del sistema sanitario territoriale, nessun piano operativo di emergenza, nessuna risorsa aggiuntiva per assunzione di supporto, né per i kit di sicurezza la cui fornitura risulta del tutto insufficiente rispetto alle necessità. Stiamo parlando di mascherine, stiamo parlando di kit da dare ai medici, anche quelli di medicina generale, perché sono loro che ci hanno lasciato in primis le penne all'inizio soprattutto, ma anche nella comunicazione o forse l'abbiamo presa un po' tutti alla leggera e quindi abbiamo continuato, nonostante gli avvisi, ad andare al pronto soccorso, ad andare dal nostro medico curante piuttosto che telefonargli e quindi abbiamo trasformato i luoghi di cura in luoghi di contagio. Poi c'è questa notizia che appare sul Corrello del Carlio di questa mattina è da Fano un'iniziativa del Centro Operativo Comunale, il COC, che ha attivato un numero, ha dedicato un numero che è lo 0721-887-483 oppure 85 finali, che è dedicato ai cittadini fanesi che sono in isolamento domiciliare appunto a causa del coronavirus. È una linea telefonica destinata esclusivamente a tutte quelle persone che sono in isolamento, che non dispongono però di aiuti familiari o extra familiari, cioè qualche parente oppure qualche vicino di casa, che dunque si trovano isolate, non potendo uscire, non possono andare a fare la spesa, non possono andare a comprare cibo o medicinali. È un numero attivo dall'unedì alla domenica, dalle 8 alle 20 e sarà possibile richiedere beni di prima necessità, appunto, eccetera, eccetera. Quindi chi vuole, chi si trova in questa condizione sappia che c'è questo numero di telefono. Ospedale in tilt, ecco cosa non ha funzionato, titola ancora il resto del carlino, nelle pagine interne di Pesaro, il sistema sanitario ora sta reggendo, ma solo grazie alla rivoluzione messa in atto quando i contagi erano ormai già diffusi. Ecco, quindi si è chiusa la famosa stalla quando ormai i buoi erano usciti. La Regione ha finalmente stretto un accordo con la sanità privata, che dunque è pronta a mettere a disposizione 110 posti letto, 30 villa fastigi dove però manca ancora l'autorizzazione ad operare e per far fronte comune contro il coronavirus. L'idea è quella di decongestionare dunque gli ospedali, in particolare Marche Nord, che stanno pagando il tributo più alto in questa emergenza. Si è pensato che sarebbe andata sotto pressione la rete delle malattie effettive, invece è toccato alle rianimazioni. Ecco perché si è trovati un po' impreparati. Si pensava di mandarli a muraglia, invece in realtà poi è toccato intervenire sulle rianimazioni, quindi stravolgere reparti da tutte le parti. Ora, la partenza dunque è sbagliata perché nei primi giorni dell'epidemia mancavano posti letto adeguati, cioè in condizioni di isolamento. Ecco perché poi è andata un po' così. L'ex primario Ugolini, allora c'è apprensione, diciamolo, nell'ambiente sanitario per le condizioni di Marcello Ugolini, che ha 70 anni e fino all'anno scorso era il primario di pneumologia all'ospedale di Muraglia, che adesso visita come specialista in diversi studi. Ora, dopo un primo ricovero in medicina, è stato trasferito in rianimazione al San Salvatore con ventilazione meccanica e antivirali per contrastare una grave polmonite bilaterale. Le sue condizioni sono definite molto serie, anche se nella tarda serata di ieri che Ugolini, che non aveva, lo ricordiamo, mai avuto problemi di salute, ha mostrato una reazione positiva alle cure facendo tirare un sospiro di sollievo a familiari ed amici. In subbuglio anche i medici di famiglia, che in questo momento contano, scrive Simona Spagnoli sul giornale questa mattina, 19 colleghi in isolamento. Pronta una difida all'Asur per le scarse condizioni di sicurezza. Malattie infettive, allestito a Pesaro il secondo reparto. Marche Nord accorpa anche ematologia e oncologia. Nuovo pretriage all'ospedale di Urbino. L'area vasta rilancia l'allarme, mancano i dispositivi di protezione nei presidi dell'entroterra. Come vedete, la situazione quindi non è per niente tranquilla. Il Covid-19 raggiunge a quota 100 tanti contagiati in provincia. 13 sono in terapia intensiva. Come abbiamo visto, 35 sono finiti nei reparti. Ricci e Ceriscioli insieme stamattina visiteranno il San Salvatore. In mattenata ringrazieranno il personale per l'abnegazione. La bambina positiva sta bene, secondo caso al liceo Marconi. Lezioni online al campus. Allo scientifico l'adesione ha superato il 90%. Il preside Riccardo Rossini con Google dice si scopre un'altra modalità didattica. Mentre sui certificati cambia il regime. Ritorno in classe dopo 5 giorni d'assenza necessario solo per le malattie infettive. Musei aperti oppure chiusi. Che confusione. I comuni viaggiano in ordine sparso. La raffica di ordinanza tra Roma e Regione ha creato il caos. A Pesaro tutto chiuso. Idem a Urbino. A Fano e in alcuni centri dell'entroterra invece ci sono alcune strutture aperte rispettando le prescrizioni che ormai abbiamo, spero, compreso tutti quanti, ovvero il metro di distanza. Ma se fosse anche un po' di più non guasterebbe. Poi c'è la notizia di spalla invece dei controlli. Al bar arrivano i vigili. Un cittadino zelante ieri mattina ha chiamato la Polizia Municipale segnalando che un bar del centro si stava comportando in maniera poco ligia alle direttive del decreto Conte. Insomma c'era una piccola folla si è fatta al bancone del bar, tutti vicino l'uno con l'altro invece di mantenere la nota distanza di un metro tra cliente e cliente e di servire questi ultimi al tavolo e dunque non al banco del bar. Insomma questa è la notizia riportata dal Carlino. Andiamo e chiudiamo dunque la pagina dedicata all'emergenza coronavirus. Andiamo a vedere velocemente le altre notizie. Allora la banda dello spray ieri alla sbarra per alcuni degli imputati, addirittura un capanello di persone, di amici giunti per sostenere questi imputati, cori da stadio, addirittura strage di Corinaldo all'apertura del processo. Gli amici inneggiano uno degli imputati, grande raffa, urlavano tutti quanti, tutti gli accusati con le mascherine. Nella fotografia del resto del Carlino però pubblica la fotografia di Francesco. Francesco è il fratello di Benedetta, Vitali, che ieri ha partecipato all'udienza, con lui vicino a lui c'era l'avvocatessa Irene Ciani, che vedete nella fotografia. Il fratello di Benedetta tra l'altro ha detto li ho potuti finalmente guardare in faccia, provo pena e ribrezzo per loro. perché sono ragazzi della mia stessa età, dice Francesco. Spero che vengano mangiati dai sensi di colpa per quello che hanno fatto. A casa viviamo una situazione snervante perché ogni mattina ci svegliamo costretti a ricominciare una giornata, mentre invece ci sono persone che hanno rovinato la nostra vita e si svegliano tranquillamente in casa con le loro abitudini. E la società che gestiva la discoteca, chiamiamola così, ora chiede i danni. Ci sono proteste, si tratta della Magic SRL, vuole 380 mila euro dalla gang e da questi giovani accusati. Un avvocato dice alcuni indagati in un procedimento parallelo. Questa invece è la pagina di Fano del Corriere Adriatico. Ricorso assegnato al Comune, la Pavimental ora deve pagare. La Pavimental è quella che fa le strade per la società Autostrade per l'Italia, quella che costruisce e realizza le strade e che a Fano ormai è operativa da diversi anni perché c'è tante vie di comunicazione da finire, ha realizzato tutte le rotatorie. La ditta è stata sanzionata con oltre 423 mila euro per la ghiaia, che ha estratto però senza averne l'autorizzazione. La sentenza d'appello ribalta il giudizio di primo grado, il 20% di questi soldi andrà alla provincia. E pressing anche per i lavori in via Fratelli Zuccheri. Il Movimento 5 Stelle chiede di sapere se l'asfalto sarà gettato prima della stagione balneare. Il lato impresentabile della città bella, la città bella è Fano ovviamente, luoghi di degrado però per colpa dei privati e qui il Comune infatti non c'entra nulla. E adesso vedremo anche le fotografie, così direte, ah è vero. Scheletri di edifici e lottizzazioni abbandonate. Ci sono anche stabili cadenti in zone molto esposte. E allora vediamo quali sono queste strutture che, come dire, fanno storcere il naso. Perché Fano è sì la città bella, però ha questi brutti nei. Uno è l'ex asilo Manfrini ingabbiato da anni e che sta nella zona del porto. Ormai è lì, sta crollando a pezzi e non si sa ancora che fine farà. Poi c'è l'area degradata dell'ex sacrificio, con questi scheletri abbandonati da film dell'orrore. E poi la casa disabitata in Viale Primo Maggio. E questa è, come dire, la situazione forse che fa più rabbia. Perché è una bella struttura che, rimessa a posto, farebbe di quel luogo, di quel passaggio. Siamo in Viale Primo Maggio, ci si imbatte sempre di fronte. Quando dal Lido ci si mette sulla statale adriatica per andare a Pesaro o per andare in centro. Insomma, sono tre luoghi che andrebbero assolutamente sistemati. E non capisco perché il Comune non possa agire e non possa fare niente, anche se sono privati. C'è il Garante per le vittime dei reati con RAPA la Regione all'Avanguardia. Approvata la proposta del Consigliere Fanese. Ha preso una figura a tutela di chi subisce aggressioni, danni o torti. La funzione affidata all'Ufficio per i diritti della persona è un servizio che è già presente, tra l'altro, anche in Lombardia. Mensa di San Paterniano, 1.600 euro dalla tombola. E quindi sono i soldi che sono stati raccolti durante il Carnevale. Altra maxi bolletta è nella sbagliata. C'è il lieto fine anche per questa coppia di coniugi che, come avrete letto nei giorni scorsi, quando è arrivata questa bolletta salata di quasi 2.000 euro, perché 1.956,10 centesimi, insomma, non sono bruscolini, la bolletta è stata annullata, c'è stata una lettura sbagliata e dunque questa somma non dovrà essere pagata. Adesso potrò regalare a mia moglie, dice il marito, la lavastoviglie che tanto desiderava. Un altro meteorite nel cielo, ma stavolta era un bengala, i social si scatenano, l'osservatorio astronomico fuga le notizie fasulle, sono un razzo sparato. Anche noi ieri sera abbiamo ricevuto questo filmato, l'abbiamo visto, abbiamo detto, ma no, restiamo con la bocca buona del meteorite che abbiamo lanciato per primi, e quindi lasciamo perdere il razzo, e quindi abbiamo lasciato correre così. Lì poi ho visto che comunque, in effetti, i social l'hanno un po' ripresa, ma il meteorite è un'altra cosa, questo andava giù molto lentamente, mentre il meteorite, come abbiamo visto, va giù a decine e decine di chilometri al secondo. A Monteporzo c'è stato un tamponamento tra tre auto coinvolte a tre automobilisti, appunto sotto shock uno dei conducenti, è successo intorno a mezzogiorno e un quarto. Velocemente, Vallefoglia, colla industriale nel fiume, Foglia, denunciato un imprenditore scarico abusivo a Montellabate, scoperto dalla capitaneria di Porto di Pesaro, sorvolando il fiume con l'elicottero. Fuga da Urbino, ora Gambini tende la mano all'opposizione, lavorare insieme per fermare il calo demografico. Critiche alle liste invece di Londèi. L'altra pagina di Urbino, del resto del Carlino, Parco di Pian del Monte, proteste per il degrado, ma il sindaco rassicura i cittadini alla vigilia delle celebrazioni rafferlesche, attendiamo il termine degli interventi, sui sottoservizi e poi al via i lavori. A Canavaccio invece un capannone, il capannone ex Oscar parte la bonifica dell'amianto e sotto città più attrattiva contro il calo demografico. Gambini risponde all'interrogazione dei consiglieri. Val Metauro, donne al lavoro a Fossombrone, in campo per animare il centro storico, nasce un gruppo femminile che annuncia la festa del cioccolato per la fine del mese. Lavori stradali, difformi dal progetto, a terre roveresche la minoranza segnala l'anomalia delle opere eseguite in via Papa Giovanni XXIII, in questo modo elevata pericolosità per i mezzi, in particolare quelli pesanti, viene meno dunque la sicurezza. E poi luci pubbliche spente, cene a lume di candela, vari comuni aderiscono oggi a millumino di meno. Premiate storica dell'arte, direttrice di banca locale, a Marisa Baldelli e Anna Maria Bartolini, il titolo 2020 di Pergolese dell'anno. Da Senigallia, sacchi di rifiuti lasciati sull'argine, così il Mesa diventa una discarica, scoperti dalla protezione civile. Con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata a tutti voi. Questo è il numero di telefono per le segnalazioni, come sempre anche attraverso WhatsApp con audio, video, fotografie, tutto quello che volete. Vi ricordo che abbiamo la pagina occhialanotizia.it sempre aggiornata sul coronavirus e poi il nostro canale Telegram, sul quale davvero arrivano in tempo reale tutte le notizie che riguardano questa emergenza sanitaria. Io mi fermo qui, ci vediamo stasera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Grazie a tutti. Grazie a tutti.